La festa del perdono Nasce proprio nel 1459 Per volere di Papa più secondo Che grazie a una bolla papale Che abbiamo custodito nel nostro archivio Permette di lucrare a tutti i cittadini Che donano l'ospedale Chi poco, chi tanto L'indulgenza plenaria Questo fa sì che tanti cittadini Sono ulteriormente incentivati a donare Per questa opera che è al servizio di tutti E quindi l'ospedale in poco tempo Riesce ad avere tutte le risorse Per poter crescere e mettersi a servizio Di tutti i cittadini Nel 1600 la festa del perdono Si arricchisce di una nuova tradizione Che è quella Di produrre dei quadri Gratulatori ai benefattori Più importanti E questa bellissima collezione di cui qui Ne vediamo alcuni esempi Continua fino ai giorni nostri Perché per fortuna le donazioni all'ospedale continuano E fa sì che noi abbiamo Una quadreria importante Dei nostri benefattori di quasi mille ritratti Dal 1600 ai giorni nostri E la cosa interessante è che venivano mostrati Esposti durante la festa del perdono Quindi ogni due anni In quello che adesso è il cortile Dell'Università degli Studi di Milano Ma una volta era il cortile principale Dell'ospedale Ed era un po' una grande operazione di marketing Per l'ospedale Per attirare nuove donazioni Esponendo quindi i testimonial più importanti Delle donazioni E quindi invogliando Altri cittadini Altre persone A fare altrettanto Per poi essere ricordate In questa bellissima collezione E questo ha fatto sì Che l'ospedale Si è potuto prosperare Crescere ancora di più Durante tutti i secoli Da 600 Fino ai giorni nostri Oggi la tradizione dei ritratti Continua ancora Tanto che ogni anno Abbiamo due o tre Ritratti Gratulatori da eseguire Proprio perché ci sono state Delle donazioni importanti Ingenti E nella maggior parte dei casi Sono fatte da persone comuni Che hanno un legame di affetto E di riconoscenza Nei confronti dell'ospedale E quindi vogliono contribuire Anche loro Con la loro donazione A migliorare Le cure I macchinari Che servono a curare le persone E gli spazi E migliorare gli spazi Di cura dell'ospedale Noi come da tradizione Realizziamo anche oggi Un quadro gratulatorio E restituiamo ai nostri medici Ai nostri operatori sanitari Che sono il motivo Per cui il benefattore Poi dona a noi Grazie per il loro impegno Che hanno avuto Nella cura Del proprio caro Della persona stessa Restituiamo quindi In sottoforma Di macchinari Miglioramento degli spazi Eccetera Come abbiamo detto Per cui è bello Che nonostante siano passati 600 anni Questa tradizione Continui E riusciamo ogni anno Quindi ad ampliare La nostra quadreria E la nostra collezione Grazie ancora una volta Alla beneficenza E la filantropia Dei cittadini milanesi E lombardi Che sono innamorati Di questo ospedale Quest'anno La festa del perdono Purtroppo cade In un anno difficile E che segue Un anno ancora più difficile Per cui avremmo voluto fare La solita festa A cui siamo abituati Che coinvolge L'ospedale I cittadini Il quartiere Come quelle degli ultimi anni Purtroppo Le regole Non ci permettono E la pandemia Soprattutto non ci permettono Di farla così Ma volevamo Comunque Celebrare Un momento Di ringraziamento Dei nuovi benefattori E mantenere alta Questa tradizione Che non si è mai interrotta Dal 1459 Oggi Abbiamo visto i nostri archivi Non si è mai interrotta E si è sempre stata celebrata Nonostante pestilenze Guerre Bombardamenti E quant'altro E quindi anche noi Non potevamo Essere da meno E rinunciare a questa tradizione Così importante Per il nostro ospedale Per cui oggi Come vi abbiamo detto Presentiamo Dei nuovi quadri Di nuovi benefattori Che hanno continuato E continuano Come tanti A voler bene Al nostro ospedale A crederci E a darci una mano A curare tutti Soprattutto in un momento difficile Come questo E star vicino Ai nostri medici Ai nostri operatori sanitari Ma chi sono oggi I benefattori Dell'ospedale? Mi chiamo Barbara Bianchi Bonomi Ho 58 anni Sono mamma di due ragazzi Di 25 e di 15 Praticamente Frequendo il policlinico Da quando avevo 4 anni È la mia seconda casa Perché sono nata Con una malattia genetica Che si chiama Malattia di Von Willebrand 3 grave Quindi nei primi anni Della mia vita I miei genitori Mi hanno accompagnato In quel policlinico Dove abbiamo conosciuto Il professor Mannucci E dove c'era Il primo centro Per la cura Della malattia Dell'emofilia E della malattia Appunto di Willebrand Quindi praticamente Ancora oggi Lo frequento Ancora oggi Sono una paziente E ancora oggi Ringrazio E sono felice Di aver avuto Alle spalle Questo ospedale Con medici fantastici Ambulatori Veramente all'avanguardia E un personale Dedito proprio Alla cura Di noi pazienti Quindi sono veramente Grata al policlinico Che è diventato Come ho detto La mia seconda casa Il legame con il policlinico Oltre al mio personale Di paziente C'è sempre stato Perché Nel 1971 La famiglia Bianchi Bonomi Ha deciso di fondare Una fondazione E Il ricordo Di mio nonno Mio nonno Prima di morire Decise di lasciare Appunto Un patrimonio immobiliare Proprio per la costituzione Di una fondazione Questa fondazione È stata creata E Con lo scopo Di aiutare La ricerca Per la malattia Amorragica Per la trombosi E sovvenzionare E aiutare Il centro Angelo Bianchi Bonomi Che si trova Qui al policlinico In via pace 3-4 anni fa Sempre con la nostra Io e mio papà Abbiamo deciso Di aiutare Il policlinico Nella realizzazione Di laboratori Al fine Sempre per la ricerca Delle malattie Amorragiche E rare Questo è successo 3 anni fa E Ha coinvolto Appunto Anche la mio papà Che fortunatamente Lui non ha Questa malattia Però Ha sempre partecipato In maniera molto attiva È stato presidente Per tanti anni Della fondazione Adesso sono subentrata io E questo è il legame Che ci lega Quindi sia un legame Proprio personale Sia un legame Affettivo Per i tanti anni Che io Ho camminato Ho percorso Questi corridoi Queste strade Del policlinico E poi Proprio una parte Invece importante Con la creazione Del laboratorio E poi Del centro Angelo Bianchi Bonome Siamo stati Molto felici Di poter Attuare questo progetto Sono stati creati 1400 laboratori Insieme Alla fondazione Cagranda Sono laboratori Di ricerca Laboratori Con ampi spazi Ricordo Che i primi laboratori Che sono stati Costruiti Dalla fondazione Angelo Bianchi Bonomi Erano in via pace Nei sotterranei E ci sono ancora E sono appena Stati smantellati La nostra gioia È stata appunto La possibilità Di Insieme al dottor Per divertirli A laboratori E devo dire Che è stato Un grandissimo successo I medici I ricercatori Biologi Sono strafelici Perché hanno Effettivamente Adesso degli spazi Molto più grandi Molto più confortevoli Dove possono Loro passano Tanto tempo In questi spazi Quindi avere Questi spazi Così Così bene costruiti Così luminosi E così Devo dire Che è stato Un grandissimo Cambio di Di rotta E sono tutti Molto molto felici Felici di lavorare Io tra l'altro Non vedo l'ora Del nuovo policlinico Sarà un progetto Meraviglioso E quindi Anche il fatto Che adesso Il quadro del nonno Per i prossimi anni Sarà esposto qua È per noi Fonte di grandissimo Grandissimo Orgoglio Proprio Veramente felici Felici di questo Felici del fatto Che tutta la mia famiglia Adesso anche con mio marito I miei figli Comunque si sono occupati Si occupano Di questa Di questa fondazione E anche perché Poi ci saranno Appunto I miei figli Per il futuro Il quadro adesso È il mio nonno Proprio è mio nonno È un quadro Di cui sono felicissima E ringrazio il policlinico Anche per questa cosa Il fatto di fare I ritratti Ai donatori Avete una memoria storica Incredibile E quindi Ripeto Sempre una visione E questo è incredibile Grazie mille Grazie mille Grazie mille